Sarà fase 2 dal 18 maggio anche per i cinghiali dei Colli Euganei, vero terrore delle colture e in questo momento nemici numero uno dei campi di mais. Dopo il blocco, durante la quarantena delle attività di caccia notturna e del posizionamento di gabbie e trappole, da lunedì si ripartirà in modo graduale. Primo obiettivo la zona sud, in particolare la Val Calaona, dove opereranno i sede controllori del parco Colli Euganei. Sono circa 10.000 gli ungulate che vivono sui colli, freschi di periodo di riproduzione con una femmina in grado di partorire dai 6 ai 10 cuccioli. Una minaccia costante per le colture, soprattutto in questo periodo di siccità, che ha costretto gli animali assetati a spingersi anche nelle zone pianeggianti. Dagli agricoltori l'appello per un lavoro di squadra, al lavoro anche il personale della Polizia Provinciale che opererà tra ospedaletto Euganeo ed Este.